Manca davvero poco ai miei saggi di Natale, al mio saggio di Natale, in cui io non ballerò, cioè non sono lì in qualità di ballerina, ma sono lì in qualità di insegnante, quindi manca veramente poco al saggio che io dovrò creare. Se non si era capito, in questo video ho deciso di portarvi con me nel mio lavoro, ovvero appunto l'insegnante di danza, farvi vedere tutto dietro le quinte, le mie lezioni. Singolo, chiuso, questo è veloce, 3, 2, 1, e singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, chiudo, mani, 1, 2, 3, boom! Dato che vi dovete un po' sfogare... No, questo... Sì, questo. Vado, giro, insieme parte il braccio. Faccio giudicare. Ok, scusi. Quindi, 3, 2, 1, 1. E giro. Via. Ok. Dai! 3, 2, 1 e 1 3, 2, 1 e 1 E Prima lei, poi lei, poi bomba 3, 2, 1, via 1, 1 Tutti quanti tra l'altro, via via Atri voi insieme E pan 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 Vai pan 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 Vai pan 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 Aiuto Aiuto